Ieri, nel tardo pomeriggio, approssimativamente intorno alle 18, a Torino, nel tratto di strada di via Ormea, compreso tra via Cellini e via Cacanova, c'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco per domare un incendio sviluppatosi al secondo piano del palazzo. Alcuni testimoni, residenti negli appartamenti circostanti, hanno inizialmente avvertito un forte odore di bruciato, successivamente, come ha raccontato una signora affacciatasi sul balcone, è stato avvistato un denso fumo nero uscire da una finestra. Immediata la chiamata ai pompieri, i quali, accorsi sul posto con tre camionette, hanno provveduto ad isolare momentaneamente il tratto di strada ed a spegnere l'incendio. Durante i concitati minuti che hanno visto l'estinzione del rogo, non è mancato qualche leggero disagio alla circolazione. Due camionette del 115 hanno infatti chiuso l'isolato tra le due vie, impedendo il passaggio di persone non autorizzate. In più, un ulteriore impedimento al traffico è stato provocato dalle auto di numerosi curiosi che, notando il fumo, si sono fermati ad assistere alla scena, abbandonando letteralmente la propria vettura in doppia fila o in divieto di sosta. La causa dell'incendio, secondo un testimone oculare, sembra essere stato un pentolino sbadatamente dimenticato sul gas acceso. Si tratta dell'ennesimo caso di distrazione all'interno delle mura domestiche. L'ambiente casalingo risulta essere spesso a teatro degli incidenti più pericolosi. Nel giro di qualche minuto la situazione è tornata alla normalità. Nella via il fortodore di bruciato è rimasto percepibile per alcune decine di metri. Sempre ieri a Torino, in via Cesare Balbo, zona Santa Giulia, sono entrati in azione i ladri di biciclette. L'episodio si è svolto tra le 17 e le 17.30. In questa fascia oraria la zona risulta essere molto frequentata, soprattutto in vicinanza della scuola materna del quartiere, vicino alla quale si trova al centro sociale a Scatasuna. La ragazza proprietaria della bicicletta, dopo un'intensa giornata di lavoro, si è diretta verso le barri adibita al parcheggio dei velocipedi. Accortasi immediatamente della scomparsa del suo mezzo di trasporto, la maestra d'asilo ha cercato testimonianze utili a ricostruire la dinamica del furto, ma, nonostante la via in quell'ora risultasse molto trafficata, non è riuscita a ricavare informazioni utili. Non è la prima volta che nel capoluogo piemontese accadono fatti di questo genere. L'arrivo dell'estate, infatti, generando la possibilità di muoversi su un mezzo o due ruote, sembra favorire proprio questo tipo di furti.